buongiorno a tutti sono fulgini lorena socio e cofondatrice di arredo classic attualmente il mio ruolo è responsabile marketing l'azienda si occupa di arredamento nel suo complesso quindi camere soggiorni e salotti e l'azienda è stata costituita esattamente 16 anni fa insieme ad altri due soci fulgini claudio e bernardo peroni che venivano da una lunga tradizione all'export infatti come scelta strategica fin da subito è stata quella di rivolgere il nostro prodotto le nostre attenzioni esclusivamente ai mercati esteri nel corso degli anni sono stati fatti notevoli investimenti sia commerciali sia a livello proprio produttivo focalizzando l'attenzione su questo obiettivo di internazionalizzazione ed esportazione sin dai primi anni di lavoro sono presa e con la mia valigia andata a cercare nuovi mercati in particolare a 25 anni viaggiavo per gli stati uniti girando tra new york los angeles miami al tempo potevo farlo perché ancora non avevo famiglie figli adesso è un po più difficile però l'entusiasmo e l'amore per il proprio lavoro e per questa fondamentalmente un'azienda di famiglia quindi anche il legame familiare la tradizione che da tempo ci lega a questo settore per me è stato stimolo e dello è tuttora nonostante poi nel frattempo abbia fatto tre figli o una famiglia da accudire però diventa veramente un lavoro una missione una missione che si fa con gioia con entusiasmo con volontà non nascondo le difficoltà di essere donna e imprenditrice nel coniugare la famiglia e il lavoro però si torna a casa anche con il sorriso di avercela fatta con la grinta di chi non molla e con l'entusiasmo soprattutto di fare sempre meglio perché non ci si può mai fermare i mercati cambiano le tendenze ugualmente si deve stare al passo sia a livello di investimenti in comunicazione a livello di ricerche di mercato di prodotto adeguare il prodotto al target giusto è un continuo stimolo che quotidianamente affrontiamo ma con voglia e coraggio la strada dell'internazionalizzazione non è semplice ma è comunque molto entusiasmante consiglio che posso dare ai giovani o alle altre donne mie colleghe è quello di essere sempre curiosi cercare partire conoscere nuovi mercati e nuove culture stando seduti qua è difficile scoprire le nuove opportunità quindi il viaggio l'attenzione alle nuove culture la relazione con le nuove culture diventano fondamentali quindi a tutti i giovani ovviamente il consiglio è quello di aprirsi e partire cercare nuove possibilità fuori tutto questo ovviamente deve essere organizzato preparato e ben studiato perché fare estero non significa semplicemente prendere l'aereo e andare con un catalogo in un nuovo paese straniero ma deve essere ben strutturato avere dei vali di collaboratori degli strumenti commerciali ad hoc quindi ecco deve essere il tutto ben programmato